musica 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 bombè 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 la ragazza è impallato chiamano un medico salve salve ammazza però che velocità che hustle allora vediamo un po' arcisi 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 bolla melfa arcisi scott ryan bugging al pala min de gaff bob bovieri rancaster game sei ripreso grazie lito ha lasciato le foto di elton john di mercurio e regina elisabetta se ti senti male guarda sempre la grazie 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 sono qui per presentarvi uno dei nostri signature drink e si chiama moustache utilizzeremo una vodka infusa al risotto al pistacchio utilizzeremo 50 ml di vodka al pistacchio dopo di che utilizzeremo il limone l'orzata per richiamare questo sentore di un pistacchio e del bianco d'uovo per cambiare la texture del drink adesso utilizzeremo una nuova tecnica non solo shakerata ma dovremo andare a ossigenare il liquido perché all'interno abbiamo del bianco d'uovo e quindi tutti gli ingredienti devono essere ben miscelati giusto due o tre volte per creare una bella schiumetta all'interno del drink andremo ad aggiungere il ghiaccio e andremo a shakerare come un proprio bomber utilizzeremo un ghiaccio precedentemente raffreddato ah, perdon terapia da pioca come se fosse un tani la supercazzola prematurata condominus viscum blind come, prego ovviamente facciamo in modo che sempre il bicchiere è pulito terapia sulla supercazzola lo scappellamento a destra o a sinistra? no, la cappella a sinistra e a destra e un profumo di vodka e togliere tutte le impolità al di sopra del bicchiere perché come guarnizione useremo delle pistacchio ed eccoci qua veniteci a trovare a largo questo è il nostro moustache no no Grazie a tutti.